bene ragazzi siamo qui con la seconda parte del video perché se no se lo facevamo tutti in una volta diventava un video molto molto lungo e abbiamo finito con questa paperella di quelle che vanno nelle vasche da bagno bene ragazzi abbiamo completato questo bel castello di sabbia qua si può muovere si può chiudere ok bellino 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 a posto fine passiamo al prossimo giochino bene ragazzi abbiamo finito di montare questa specie di barchetta è una barchetta secondo te? boh guardate abbiamo disfatto il castello perché bisogna rubare i pezzi dagli altri giochini abbiamo ammazzato la paperella peccato bene continuiamo con il prossimo ok ragazzi siamo arrivati al termine di questa seconda barchetta che cavalca le onde ho dovuto smontare quella di prima perché servivano dei pezzi e niente adesso tocca al fenicottero allora abbiamo finito il fenicottero però è un po' bruttino senza occhi quindi li aggiungo io una finta poi non è proprio un occhio vero però ottimo un po' grande come occhio però va bene dai va bene così tanto era un pezzo che non non rientrava nel montaggio quindi va bene passiamo al prossimo ciao abbiamo finito questo pesciolino ancora che ci smonta è stato molto veloce da fare e anche noi procediamo velocemente perché sennò questo video non finirà più passiamo al prossimo giochino bene abbiamo finito anche questo cavalluccio marino si è un cavalluccio marino perché qua sotto c'è la coda e questa sarebbe la bocca un po' strano eh però va bene ora passiamo al papagallo che in teoria anzi senza in teoria è l'ultimo ciao ottimo abbiamo finito anche l'ultimo del set 12 in 1 questo è un papagallo diciamo che è carino e è stato un tribolo finire tutti questi pezzettini perché devi prendere un pezzettino da uno smontare l'altro poi ad esempio qualcuno l'ho voluto tenere intero tipo il gelato tipo il fenicottero e vabbè qua c'è un mezzo castello distrutto e basta finito quindi se ti è piaciuto il video lascia un mi piace iscriviti al canale scrivimi nei commenti quale secondo te è il giochino più bello e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao